Per te è finita. Arkham City è nostra. Chi si illude di prenderla dovrà vedersela con me. Questa stanza ti distruggerà, Batman. Io, Edward Nygma, ho progettato un intricato enigma di tale complessità che ho paura morirai qui. Non piangere. Non mancherà nessuno. Qui! Sono sicuro che è da questa parte! Non pensare di aver ottenuto una vittoria su di me non lo era. Passa! Veniva d'alì!